Una scandone ma in partita cede alla viola al palacalafiore, i calabresi battono i lupi agevolmente 79-52 in un match senza storia dal primo periodo. Troppo brutta Avellino per essere vera, peccato perché gli erpini erano arrivati all'appuntamento decisivo riprendendo la serie che li vedevano sotto 2-0. Già nei primi 10 minuti Genovese fa capire Verdi che non è serata per loro bombardando da tre insieme a Barile Folle la difesa erpina. Dopo un 11-0 mortifero di parziale Avellino si scuote con Marra che realizza il primo canestro per i lupi, poi la scandone crolla 27-12 sotto i colpi di Gobbato e ancora Genovese. Solo Costa piazza un mini break di 5-0 che salva la faccia al primo sciagurato quarto di Avellino. Nel secondo periodo la scandone torna grazie a Dani e Sousa a meno 11-29-18 dopo un break di 6-2 ma la reazione della viola è imponente con Sebrek e Roveda. Prima Barile e poi ancora Gobbato piazzano un altro break di 10-0, Avellino è stordito e chiude l'intervallo lungo sotto di 17-41-24. Sembra già finita la gara dei lupi nel terzo periodo quando saltano i nervi e Marra si becca un'espulsione per un fallo a palla lontana su Roveda. La viola tocca anche un umiliante più 28-2 dal termine quando il tabellone è recitato 62-34. Prima dell'ultimo riposo Mraovic si mette in proprio realizzando 6 punti per il 65-40. Pura Accademia nell'ultimo quarto, Avellino ha referto solo dalla lunetta con Molina e Costa. Troppo poco, la viola non ha pietà della scandone ed arriva più 30 sul 79-49 grazie a Gobbato e Genovese grazie all'ennesimo parziale aperto di 7-0. La tripla di Ani chiude la contesa, esultano i nero-arancio, teste basse in casa Avellino che domenica affronterà nel derby per evitare la C-gold della Virtus Pozzuoli che ha perso di un punto 69-68 contro Monopoli, l'altra prima sfida salvezza. Monopoli ha compiuto tra l'altro un'impresa ribaltando la serie dallo 0-2 a 3-2.